Io l'ordinanza l'ho precisata con questi termini, chi sta qua abbia il medico di famiglia qua. Il presidente della regione Eugenio Gianni ha firmato un'ordinanza che consente l'accesso alle seconde case per chi arriva da fuori, solo a chi ha in Toscana il medico di famiglia o il pediatra. In risposta alle sollecitazioni che arrivano da numerose amministrazioni locali, specialmente quelle della costa, Gianni mette un limite alla circolazione per aiutare a contenere l'emergenza Covid-19 e scongiurare quindi il sovraccarico del sistema sanitario a causa delle fughe dalle regioni individuate come zone arancioni o rosse. Nei confronti dei trasgressori è prevista una sanzione. Come ci sia arrivato, perché ci sia arrivato, quando ci sia arrivato, tutto da precisare può essere soprattutto persone che possono essere già venute nei giorni scorsi, non siamo mica con dogane che possono calcolare qual è stato il flusso di mobilità. Chi sta qua deve avere qua il medico di famiglia e mi sembra sia un'esigenza dettata dall'emergenza sanitaria e quindi chi ha il medico di famiglia che è in Toscana può stare nella sua abitazione che abbia la resilienza o il domicilio in Toscana. Sono consentiti comunque i rientri motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute o anche di studio, in coerenza con quanto sancito dal DPCM del 3 novembre. Vogliamo regolare gli accessi alle seconde case di Chiara Gianni per frenare il trasferimento dalle zone rosse nella nostra regione. E chi si è già spostato da quelle regioni prima di oggi, giorno di entrata in vigore del decreto? Deve ritornare via.